20 ore di consiglio regionale e un numero non meglio precisato di emendamenti finalizzati a bloccare gli intenti della maggioranza. Forza Italia, 5 giorni dall'approvazione del bilancio, avvenuto nonostante tutto in tempi record, rivela le motivazioni di un ostruzionismo che ha portato al termine della seduta una garanzia per territori e cittadini. Saremmo potuti andare avanti anche una settimana, questo non avrebbe portato, se non a costi migliori. Noi abbiamo cercato di rimettere pezzi a colori di una finanziaria che consideriamo estremamente negativa per dei dati di fatto oggettivi. Per agganciare la ripresa questa regione deve costare di meno, far pagare meno tasse e investire tutte le risorse che recupera sul lavoro e sviluppo. Non ci sono meno tasse, la regione non costa di meno e non ci sono investimenti di rilievo sul lavoro e in infrastrutture. Lo hanno definito un bilancio senza anima, tanti i capitoli che Forza Italia definisce a fondi zero, da qui l'esigenza di assicurare la copertura finanziaria in ambiti quali agricoltura, cultura, marineria, ricerca. Un bilancio che recava solo stanziamenti pari a zero su alcuni capitoli fondamentali. Gli elenco così a titolo d'esempio. Abbiamo messo fondi contro l'erosione della costa per liberare le case popolari da chi le occupa abusivamente e consegnarle a chi ne ha diritto per garantire la copertura assicurativa di danni e danneggiamenti che arrivano sul mondo agricolo, dalla fauna al tempo negativo. E poi la storia dei fondi ex Pine, quelli destinati ai lavori per l'eliminazione del rischio idrogeologico. A giugno erano stati bloccati dal neo governatore D'Alfonso, poi si è arrivati ad un dietro fronte. Per quanto attiene i fondi Pine abbiamo promosso un ricorso al TAR e il presidente D'Alfonso si è in quota parte rimangiato questa sua decisione, riassegnando quei fondi al 90% di come li aveva trovati assegnati. Abbiamo perso 8 mesi di tempo, fatto un po' di fumo e un po' di propaganda.